Sì, grazie Presidente. Buongiorno consiglieri. Mi scuso per la voce, cerco di tenerla un pochino più alta. Presentiamo l'ultima variazione del bilancio di previsione 2017, 18 e 19, che il principio contabile indica analogamente il test unico come il 30 di novembre è l'ultima data per approvare la variazione di bilancio per l'esercizio in corso, ricordando poi che siamo in preparazione per il bilancio di previsione per il triennio successivo. Mi preme sottolineare che in questo momento qui, visto che abbiamo eseguito un'alta variazione di bilancio durante il mese di ottobre, che ha risistemato alcune criticità che erano presenti sul bilancio di previsione 2017, questa è una variazione di bilancio che mantiene il saldo di finanza pubblica, anzi lo migliora per l'annualità 2017 e lo rettifica, seppur di poco, per l'annualità 2018 e 2019, una variazione conservativa, che soddisfa tra le altre cose anche i requisiti dell'equilibrio di finanza pubblica, soprattutto sul 2017, e viene eseguita a seguito di quelle che sono le criticità, come voi avete visto leggendo la variazione in merito agli accantonamenti al fondo passività potenziali che sono stati occorsi per adeguare le poste di bilancio nel 2017. Da ricordare e da notare nella variazione, soprattutto le maggiori entrate che sono state certificate dalle strutture capitoline, quindi dai dipartimenti, in particolare quello del dipartimento delle entrate, e le ricordo perché sono sostanziose, abbiamo IMU arretrati per 39.817.000, ICI arretrati per 9.559.000, addizionale IRPEF arretrati 1.964.000, cannone per l'installazione di mezzi pubblicitari 6.253.000, diritti di segreteria di atti urbanistici edilizi per 2.580.000, COSAP permanente e temporanea 6.616.822, tasi arretrati 1.189.945.72. Silenzio in aula, per favore, consiglieri e cittadini presenti, cortesemente. Prego, Assessore. Grazie. Al netto dell'accantonamento obbligatorio in base ai parametri stabiliti dalla legge di bilancio per il fondo crediti dubbi esigibilità, pari a 9.695.931.09, le entrate sono disponibili per la variazione. Faccio notare che la scelta anche prudenziale a seguito anche del benestare sia dell'assessorato che della sindaca per quanto riguarda l'estinzione anticipata dei mutui che voi trovate all'interno della variazione, perché è la parte più cospicua, abbiamo provveduto a presentare all'Assemblea Capitolina la votazione sull'estinzione anticipata dei mutui per un totale di 99 milioni. Aggiungo perché durante la commissione di ieri è stato richiesto un'analisi dei criteri con i quali sono stati selezionati i mutui che vengono indicati all'interno della variazione. Quindi riporto una nota che è arrivata e quindi con decreto del Ministero dell'Interno di concerto con il MEF è stato approvato il modello per la richiesta da parte dei comuni del contributo previsto al comma 1 articolo 9 del decreto legislativo 113 del 24 giugno 2016 come modificato a legge 7 agosto 2016 numero 160 per i costi sostenuti o da sostenere per gli indennizi per l'estinzione anticipata totale o parziale dei mutui e prestiti obbligazionali nell'anno 2017. La richiesta deve essere formulata esclusivamente con le modalità telematiche e poi è stato scambiato il termine perché all'epoca del calcolo era la precedente scadenza dal 31 di marzo e prevede la firma digitale del Sindaco e responsabile del servizio finanziario che è una richiesta che noi abbiamo già fatto e questa è la delibera con il quale si chiede l'autorizzazione per l'estinzione dei mutui. Quindi in relazione al decreto sono state individuate 22 posizioni di mutui per un debito residuo al 31 dicembre 2017 di circa 100 milioni di euro che poi sono 99,415,515,99 come indicato all'interno delle variazioni. a carico della gestione ordinaria che presentano un tasso di interesse contrattuale al di sopra delle attuali condizioni di mercato e che non sono stati oggetto di precedenti rinegoziazioni. Quindi sono stati identificati di quelli che abbiamo e quelli che rientrano nelle caratteristiche. Le caratteristiche sono una vita residua tra 11 e 16 anni, che sono dentro il decreto, un tasso fisso da un minimo del 3,708% a un massimo del 4,05% identificato nel decreto e per quanto riguarda i tassi variabili e con i spread compresi tra il 4,07% e il 4,75%. Quindi l'obiettivo dell'ufficio è quello di estinguere tali posizioni eccessivamente onerose, utilizzando il contributo statale per finanziare l'indennizzo e contestualmente rifinanziare il capitale rimborsato anticipatamente a condizioni più favorevoli rispetto alle attuali, ossia se io procedo a fare l'estinzione anticipata, quindi libero spazi di finanza pubblica negli anni successivi, perché ai fini del cacco dell'interesse il decreto ministeriale stabilisce il range con il quale possono essere selezionati i mutui e hanno tutte queste caratteristiche qui. Dal punto di vista del saldo di finanza pubblica, sia la quota interessi che la quota capitale libera spazio per utilizzare o altre forme di finanziamento o nuovi mutui per finanziare le opere successive che noi potremmo mettere a condizioni più vantaggiose rispetto a quelli che sono estinti. La logica che abbiamo utilizzato è questa. Quindi l'operazione dovrà essere conclusa entro il 31 dicembre del 2017, il buon esito dell'operazione è di penetrare le condizioni, l'assinanzione da parte del ministro dell'interno del contributo e finanziamento di tutto parte dell'indennizzo, l'ottenimento da parte del sistema creditizio di prestiti dati a finanziare il capitale estinto nel rispetto ai limiti del costo globale anno massimo delle operazioni di buto effettuate nell'ente ai sensi del decreto ministeriale del 16 giugno 2015. Tante condizioni appare particolarmente problematiche da realizzarsi istante l'attuale difficoltà del settore creditizio e delogare i finanziamenti agli enti locali. A caso noi abbiamo utilizzato l'avanzo di amministrazione solo per liberare spazio e avere la possibilità negli anni successivi di applicare avanzo senza riaumentare l'indebitamento. Questa è la prima fase dell'operazione di estinzione dei mutui e c'è allegata, poi magari la metto a disposizione dei consiglieri, anche la tabella con l'identificazione dei mutui e quindi anche il debito residuo, il debito originale, la rata, il tasso, la vita residua e la penale. Quindi la richiesta, penso, della consigliera Montella può essere esaudita con questo però la metto a disposizione per così la possa verificare in merito alla scelta che è stata fatta. Continuo sull'analisi della variazione e poi se vado fuori con i tempi, il Presidente me lo ricordi per cortesia. Indicando che nelle poste più significative viene accantonato al fondo passività potenziale il porto di 17 milioni e 300 mila a seguito della retroadattazione da parte della Regione Lazio della determinazione della tariffa di accesso al TMB colari non compresi nel piano finanziario tariffa per l'anno 2017 di Ama per il Dipartimento risorse economiche richiesto l'accantonamento a fondo passività potenziale di 961 mila euro nelle mole di definizione del contenzioso relativa all'accesso a titolo gratuito alle banche dati, ASCI e motorizzazione sempre il Dipartimento risorse economiche richiesto l'accantonamento al fondo passività potenziale di quota dei preventi di violazione al coscio della strada accertate con autovelox a partire da enti proprietari sulle strade e gli enti accertatori nelle mole di individuazione dell'effettiva ripartizione per un importo di 700 mila euro a seguito di nota del Dipartimento Mobilità dall'asclusione della riconciliazione con l'ATAC dell'accantonamento effettuato a fondo passività potenziale per euro 31 milioni 7,92 e 8,21,62 perché viene rimodulato perché contemporaneamente viene richiesto l'accantonamento per le annuità successive di 20 milioni di questa parte che noi abbiamo l'ufficio ragioneria ha ricevuto molte richieste finanziamenti di emersione dei debiti fuori bilancio presentate alle strutture capitoline da accantonare all'affondo passività potenziale per un importo di 11 milioni 4,79 le altre strutture capitoline hanno richiesto stanziamenti di spesa per 39 milioni 751 relativamente al 2017, 200 mila euro per il 2018 e il 2019 finanziate a garantire l'ordinario funzionamento dell'amministrazione e la remunzione di situazioni potenzialmente atte a recare pregiudizio al patrimonio dell'ente la manovra produce effetti anche per il 2017, 2018 e il 2019 e l'accantonamento a fondo credito di pregibilità l'avevo già indicato questo è il parere, questa è la variazione ricordo le maggiori spese, ripartimento sviluppo, infrastrutture e manutenzione urbana quindi accordo transattivo, impresa, uniter, consorzio statale in liquidazione per il riconoscimento di riserve relative all'appalto per l'allungamento della via Tiburtina per 14 milioni e 500 mila, integrazione delle utenze elettriche per 10 milioni e 100 integrazione di utenze elettriche per 7 milioni, integrazione del contratto di servizio illuminazione per 4 milioni, illuminazione di torretta di piazza Venezia per 1000 euro dipartimento risorse economiche e agevolazione dei tariffari etari per 4 milioni ragioni di generale maggiori o neanche a seguito del riconoscimento dei debiti fuori bilancio abbiamo istituito un piccolo fondo di 150 mila euro perché dal momento in cui viene fatto il riconoscimento al momento della liquidazione se potessero insorgere degli interessi abbiamo un fondo di protezione per quanto riguarda l'adeguamento del riconoscimento dei debiti fuori bilancio ricordiamo che abbiamo avuto segnalazioni di mecenatismo per quanto riguarda la valorizzazione del giardino Caffarelli e del giardino De Vico per 360 mila euro con un finanziamento di Energy Green Power e l'allestimento della sezione del foro di Traiano del Museo dei Fori Imperiali Mercati di Traiano da parte di Ferrari S.P.A. per 216 e 800 abbiamo indicato anche le spese necessarie per i municipi quindi il primo per 42 mila euro il terzo per 723 il terzo manutenzione straordinaria della strada per 300 mila euro il municipio sesto per il completo lavoro di manutenzione straordinaria in via dell'archeologia per 100 mila euro il municipio settimo manutenzione straordinaria del passo Lombardo via Ranuccio Bianchi Bandinelli per 900 mila euro tutte finanziate con sanzione della legge urbanistica 40 mila euro alla sovventendenza per la memoria dei caduti della strage di via Fani il 16 marzo con alienazione delle partecipate come già indicato precedentemente per quanto concede Dipartimento Infrastrutture e Mautenzione Urbana segnalate emersioni di ulteriori debiti fuori bilancio per un importo di 13 milioni 611 illuminazione pubblica nuovi impianti realizzati tra il 2009 e successivi 9 milioni 657 nuovi impianti eseguiti su richiesta il Dipartimento e Periferie 3.896,825 impianti speciali scuole ed uffici 19 mila euro impianti antifurti scuola Paolo Biocca via Galvani 4,6 per 15 mila euro impianti antifurto scuola di via Paterni per 23 mila euro grazie 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 grazie